In questo video vedremo come si compila la sezione esigenze di famiglia in una domanda di mobilità per la scuola secondaria di secondo grado. Scegliamo la domanda di trasferimento per la scuola secondaria anche perché è bene specificare che per il passaggio di cartella e il passaggio di ruolo le esigenze di famiglia non sono contemplate, cioè non si danno punteggi per il ricongiungimento né tantomeno per i figli. Non valgono nemmeno molte delle precedenze che valgono per il trasferimento. Andiamo alla sezione trasferimento per fare vedere come si compila la sezione esigenze di famiglia e andremo proprio in una pagina riservata alle varie sezioni per compilare la domanda. Avevamo già visto in passato come si compila l'ansianità del servizio e andiamo a vedere come si compila la sezione esigenze di famiglia. Si apre e abbiamo solo quattro punti. Il comune di congiungimento per il trasferimento si va a scegliere la provincia per esempio scegliamo Agrigento e il comune di riferimento che per esempio consideriamo Agrigento. Così il docente che chiede trasferimento presso il comune di Agrigento avrà garantiti sei punti. La casella 8 non la possono compilare tutti ma solamente coloro che assistono, figli minorati, tossicodipendenti oppure che abbiano un genitore che fa delle cure particolari in un dato comune presso un istituto di cura allora si avrà la possibilità di avere ulteriori sei punti anche nel comune dove si assiste il congiunto. Per il punto 9 invece sono i figli che non abbiano compiuti sei anni di età. Qui si mette il numero di figli per esempio se una persona dovesse avere due figli di età compresi fra il zero e i sei anni metterà per esempio due. E se per esempio avrà un figlio di età superiore ai sei anni ma inferiore ai 18 qua potrà mettere uno. E in questo modo ogni figlio di età inferiore ai sei anni avrà quattro punti di punteggio, varrà quattro punti di punteggio. Mentre ogni figlio di età compresa fra i sei e diciotto anni avrà un punteggio di tre punti. I figli invece di maggiorità non vengono dichiarati e non hanno valore di punteggio. Speriamo che questo video sia stato utile ai nostri lettori. Seguiteci ancora nel nostro sito www.tecnica.scuola.it seguiteci anche nel canale youtube dove presenteremo altri video sulla mobilità e sulle varie sezioni per la compilazione della domanda di mobilità appunto sia per quanto riguarda i docenti che per il personale ATA. Un saluto a tutti i nostri lettori. Grazie a tutti.